Conosciamo bene le favole. Ce le hanno raccontate così tante volte che ormai non hanno più segreti. Conosciamo i meccanismi, la morale, sappiamo perfettamente chi è il buono e chi è il cattivo. Il lupo, naturalmente. Ma è davvero così? Insomma, siamo sicuri che il cattivo sia proprio il lupo. In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. Un podcast in otto episodi tratto dalla nuova serie di SkyArte con Carlo Lucarelli. Buon ascolto. La bella è Pedro la bestia. C'è una ragazza che trema dalla paura. Ha poco più di 18 anni e se ne sta in piedi, vicino al camino. Ogni tanto allunga una mano per sentire il calore del fuoco. Più cerca di calmarsi, più l'ansia cresce. E anche a dirlo, è bellissima. I lineamenti dolci del viso, le guance arrossate, i capelli intrecciati. La ragazza sente dei rumori che poi diventano passi. Allora prende un gran respiro. Di quelli che si fanno quando si deve essere coraggiosi. Ma il respiro si spezza a metà, perché alla porta della camera da letto appare qualcuno. No, anzi, qualcosa. Non importa che stia in piedi e sia vestito come un damerino. Quella cosa è un mostro. Ha il viso e le mani ricoperte di pelo, come un osso, come un lupo. La scena sembra attratta da una fiaba molto famosa che si intitola La Bella e la Bestia e che ha come protagonista una ragazza incantevole rinchiusa in un castello stregato, governato da un mostro. La ragazza si chiama Bella e in quella situazione spiacevole c'è finita a causa di un fiore. Il suo amato padre ha rubato per lei una rosa nel giardino del castello. Il mostro l'ha scoperto e l'ha condannato a morte. La ragazza però non è soltanto bella, ma forte e coraggiosa. E così, nonostante l'opposizione del padre, si sostituisce a lui salvandogli la vita. La bestia per fortuna non è così cattiva. Anzi, è dolce e gentile. E piano piano la ragazza se ne innamora. Così rompe una maledizione e il mostro si trasforma in un bellissimo principe. Ma la scena che abbiamo raccontato non esce dalla penna di uno scrittore. Le fiabe, quelle che crediamo di conoscere bene, affondano le radici infatti crudeli, storie oscure, in cui i protagonisti non vivono felici e contenti, come questa. Siamo in Francia, probabilmente nel 1573, e la ragazza non si chiama Bella, ma Catherine. Anche l'uomo, che sembra una bestia, ha un nome. Si chiama Pedro Gonzales ed è coperto di peli, come il mostro della fiaba. Quel manto, Pedro, se lo porta addosso fin da bambino. È iniziato tutto circa 26 anni prima, sull'isola di Tenerife, nell'oceano Atlantico, dove è nato. Oggi, un medico direbbe che soffre di una malattia chiamata ipertricosi. Ma allora nessuno lo sa, e per quel bambino è un problema. Nella fiaba, invece, la bestia non è sempre stato un mostro peloso. In una delle versioni rese celebri dalla Disney, il pasticcio avviene durante un ballo di corte, quando una vecchia chiede ad un giovane principe di poter entrare al castello per ripararsi dalla tempesta. Ma il principe, disgustato dall'aspetto della donna, la scaccia. Allora, la vecchia si rivela essere una potente maga, che dopo averlo ammonito, a badare più al cuore che all'aspetto esteriore delle persone, lo trasforma in una creatura orribile. Ma in quella che viene considerata la prima versione moderna della fiaba, pubblicata da Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve nel 1740, le vicende narrate erano più scabrose, perché rivolte ad un pubblico di adulti. Lì, il principe è soltanto un bambino e la madre una regina impegnata in un conflitto e per questo lo affida ad una vecchia fata. Poi però il principe cresce, diventa un giovane uomo e la fata vorrebbe diventarne l'amante, ma lui la rifiuta perché è vecchia e brutta. Lei allora si offende e lo trasforma in un mostro con tanto di proboscide e squame. Al contrario dei principi della fiaba, il piccolo Pedro Gonzales non rifiuta, ne offende nessuno. Per quanto ne sappiamo è soltanto un bravo bambino che ha la sfortuna di nascere con quella malattia e di incontrare la gente sbagliata. A Tenerife i discendenti degli indigeni come Pedro non se la passano bene. Una quarantina d'anni prima i conquistadores spagnoli hanno ricevuto l'ordine di piegare l'ultimo popolo delle isole canarie che resiste alla colonizzazione, i guanci. Nonostante siano fieri guerrieri, i loro giavellotti non possono competere con le armi da fuoco degli spagnoli che vincono e riducono gli indigeni in schiavitù. Non lo sappiamo con certezza, ma è possibile che sia un mercante spagnolo quello che ad occhio è il piccolo Pedro ricoperto di peli. Per i governanti d'Europa, avere a corte scimmie, leoni, pappagalli, ma anche storpi e nani è considerato una dimostrazione di potenza. Ma quello che il mercante si trova davanti è quasi un essere mitologico che viene chiamato uomo selvaggio. Pedro viene catturato e portato su una nave per essere regalato al re di Spagna o magari a sua sorella, governatrice dei Paesi Bassi. Ma Pedro non è un animale, non è un tesoro e non è neanche un selvaggio. È soltanto un bambino di dieci anni che trema di paura. Per i marinai, però, è un animale e come tale lo trattano. Forse lo mettono nella stiva, in una gabbia, con gli animali feroci o con i topi, che sono altrettanto pericolosi. Sulla dinamica della traversata non abbiamo documenti, ma sappiamo che Pedro Gonzales alla corte del re di Spagna non arriverà mai. L'ipotesi più suggestiva è che la sua nave sia stata attaccata da corsari francesi che l'hanno considerato come parte del bottino. Anche i pirati, infatti, sapevano che un mostro come quello valeva molti soldi e molti favori. Lo abbiamo detto. Nelle corti d'Europa uomini affetti da gigantismo, nanismo, persone albine, pigmei sono molto ricercati e l'uomo selvaggio non ne dà meno. A quei tempi si credeva che ai confini della terra conosciuta abitassero popoli ai confini dell'umano. Anche i testi di letteratura ne parlano, come l'Orlando Furioso dell'Ariosto. Arrivato in Francia, Pedro viene portato al cospetto del re, Enrico II e di sua moglie, Caterina de' Medici. Potrebbe finire nello zoo del re, assieme agli altri animali esotici, un leone, un leopardo, un dromedario, oppure essere utilizzato nei combattimenti con le scimmie e i nani. Enrico II è colpito da quel cucciolo di uomo selvaggio. Lo osserva con attenzione e va oltre il pelo che lo ricopre, facendolo sembrare un morbido zibellino. Ne intravede i lineamenti delicati, da bambino. Prova anche a parlarci. Enrico II, lo spagnolo, lo conosce, perché all'età di Pedro è stato prigioniero di Carlo V, il re di Spagna. È forse il ricordo di questa brutta esperienza che lo porta a prendere una decisione che cambia per sempre la vita di Pedro. Il re accoglie il cucciolo peloso a corte e ordina che venga istruito in modo da civilizzarlo. Tutto questo, però, non fa di Pedro Gonzales un essere umano e non gli ridà la libertà. Nonostante Pedro sia uno studente modello di quelli che rendono orgogliosi i precettori, la curiosità morbosa legata ai suoi peli lo sovrasta. Ci sono i nobili amici del re che vogliono vedere il mostro di persona e ci sono i medici. Un giorno Pedro viene spogliato davanti a loro, esaminato e misurato. C'è chi sostiene che durante la gravidanza la madre abbia osservato troppo a lungo qualcosa di peloso. C'è un trattato che affronta l'argomento. Si chiama The Monstre et Prodige e viene pubblicato a Parigi nel 1573 da Ambroise Paré, chirurgo di Enrico II. La riproduzione di una ragazza pelosa è inserita tra gli esempi di mostri formati dalla forza dell'immaginazione. È importante, sostiene il trattato, che le donne, al momento del concepimento, non guardino o pensino a figure mostruose per evitare che dentro di loro possa crescere un piccolo simile. Altri medici, invece, credono che quel manto sia un segno dell'ira divina. Mentre lo visitano, forse qualcuno suggerisce di fare attenzione, perché l'uomo selvaggio può diventare feroce in pochi istanti. Pedro ascolta e soffre, perché lui sa di essere solo un bambino. Sono passati circa 26 anni da quando Pedro Gonzales è stato accolto a corte da Renrico II. Anche se il suo vecchio protettore è morto da tempo, è riuscito lo stesso a conservare la sua dignità e a non farsi trattare da fenomeno della natura. Ma nonostante abbia studiato latino e abbia ricoperto un prestigioso incarico a corte, a Pedro viene affibbiato un soprannome che gli ricorda tutti i giorni che lui è un'altra cosa, diverso dagli altri. Il selvaggio. Pedro Gonzales resta a metà tra un essere umano e un animale, un dono arrivato da un paese esotico e non una persona libera e indipendente. Le cose si complicano quando Caterina de' Medici decide che per Pedro è arrivato il momento di prendere moglie. Dopo la morte di Enrico II e l'ascesa al trono del figlio, la donna è diventata regina madre di Francia e non ha certo perso il suo potere. Caterina ha una vera e propria passione per i matrimoni combinati, ne ha già organizzati parecchi. Uno dei più conosciuti è quello tra il suo nano prediletto con un'altra nana di corte, immortalato da uno dei suoi pittori. La giovane scelta per diventare la sposa di Pedro è figlia di una donna a servizio della regina, che certo non può opporsi ai suoi desideri. Si chiama quasi come lei, Catherine. La ragazza è molto bella, quasi che la regina voglia dare vita al motivo folclorico che sta alla base della bella e la bestia. Quello dell'unione tra una creatura mostruosa e una giovane donna. Un motivo che circola da diversi secoli e in molte versioni e all'epoca è ben conosciuto. L'abbiamo già raccontato all'inizio. È quasi certamente una notte del 1573 quando la giovane Catherine attende l'arrivo del marito, Pedro Gonzales. Quando il marito si affaccia alla porta, per Catherine non deve essere un momento semplice. Certo, Pedro è noto per essere un uomo raffinato e gentile, ma andarci a letto e farci dei figli è un'altra cosa. Forse Catherine ha paura di quello che le hanno descritto come un uomo selvaggio, un mostro, o forse no. Non sappiamo come siano andate le cose tra di loro quella notte, ma intorno al 1575 nasce Maddalena ed è pelosa come il padre. Nel film d'animazione della Disney che ha fatto conoscere la storia della bella e la bestia ai bambini di tutto il mondo, la bella non è affatto costretta a sposarsi, ci mancherebbe. La bestia, che ha un testone da bisonte, unghie da gattino e grandi occhi azzurri, è soltanto un po' scontrosa e attende con pazienza che la bella si innamori di lui. Nella versione originale della fiaba, quella scritta da Madame de Villeneuve, la bestia non è così timida e va subito al sodo. Volete che venga a letto con voi? chiede la bella tutte le sere. Per fortuna però, anche nella versione originale la bestia è molto educata, rispetta i rifiuti della bella e attende con pazienza che l'amore nasca spontaneamente. Se Katrin si innamori davvero di Pedro Gonzales, come accade nella fiaba, resta un mistero. Anche se alla National Gallery of Art di Washington c'è un loro ritratto. Katrin tiene una mano appoggiata sulla spalla del marito e molti indicano in quel gesto una testimonianza d'affetto sincero. Quello che sappiamo è che lui e la moglie hanno avuto almeno cinque figli pelosi. Possiamo solo immaginare la preoccupazione di Pedro Gonzales quando guarda il suo secondo figlio peloso chiamato con il nome di Enrico in onore del re di Francia che tanto ha fatto per lui. Sa bene come quei maledetti peli in quei tempi oscuri possano trasformare un bambino in un mostro da esibire come fosse una curiosità della natura. Ad un certo punto nella fiaba originale della Bella e la Bestia il mostro rischia di morire. è stato gentile ha lasciato che la Bella tornasse a casa facendole promettere di far rientro al castello entro due mesi. La ragazza però si attarda e ci manca poco che la Bestia muoia per la sua ingratitudine. Ma è una fiaba e l'amore sincero di Bella unito all'acqua di una fontana e qualche balsamo sono sufficienti a salvare la Bestia. A differenza della fiaba la storia di Pedro prende una brutta piega. Dopo la morte di Caterina De Medici viene donato al Duca di Parma. A corte Ranuccio Farnese regala i suoi figli come fossero cuccioli d'animale. Antonietta ha circa otto anni e viene consegnata alla Marchesa di Soragna Isabella Pallavicino. La donna ha il salotto migliore della città e la bambina ne diventa l'attrazione principale. Maddalena invece è fatta sposare con un addestratore di cani forse perché Ranuccio lo ha pensato esperto nel gestire una progenia animalesca. Enrico finisce a casa del cardinale Odoardo Farnese che lo attendeva con impazienza. A Parma viene riconosciuto a Pedro il titolo di don e gli viene assegnata una rendita per mantenere la famiglia. Quello però che Pedro Gonzales era riuscito a evitare a Parigi essere esibito come un fenomeno si avvera alla corte dei Farnese. Il Duca infatti non gli chiede di lavorare ma soltanto di far vedere ogni tanto i suoi preziosissimi peli. Don Pedro però insiste per avere un incarico e per qualche anno viene accontentato. Il Duca lo nomina fattore di alcuni suoi possedimenti agricoli poi però lo richiama a Parma perché non vuole privarsi del prestigio che un peloso come lui poteva dargli. Lo sappiamo Pedro Gonzales è un uomo istruito parla spagnolo e ha studiato francese e latino ma per lui e i suoi familiari la vita è segnata da un'orribile certezza il popolo è spietato con i diversi. Se i freak di lusso se ne stanno a corte i freak poveri sono discriminati e marginati abbandonati al loro handicap. Pedro Gonzales questo lo sa bene la vicinanza ai nobili e i privilegi che ne derivano è diretta conseguenza di quei lunghi peli. E l'estate del 1595 quando Enrico Gonzales il primo figlio maschio di Don Pedro arriva a Roma. Appena giunto è vestito di tutto punto e fatto salire su una carrozza. Approfittando del viaggio verso la villeggiatura il cardinale mostra con orgoglio il suo selvaggio dai lunghi peli biondi per le vie della città. Gli viene affidato il compito di aiutante di camera del cardinale Odoardo e spesso viene presentato come una rarità agli amici. Enrico è solo un ragazzo ma il suo destino sembra segnato. Secondo il bel saggio dello storico Roberto Zapperi intitolato Il selvaggio gentiluomo l'incredibile storia di Pedro Gonzales e dei suoi figli c'è un quadro in cui Enrico è ritratto assieme a Taddeo dal forno affetto da nanismo e Pietro Vendrame detto Pietro Matto e poi ci sono cani scimmie e un pappagallo. Il titolo del dipinto Arrigo Peloso Pietro Matto Amon Nano e altre bestie sta a significare che gli uomini raffigurati sono equiparati alle bestie. Enrico qui italianizzato in Arrigo sembra sprofondare nell'incubo paterno e ritornare pericolosamente vicino alla sua condizione di animale. Nella versione della fiaba Bella vive in una situazione parallela è arrivata da poco al castello e il padre che l'ha accompagnata sta per andarsene. La bestia ha riempito l'uomo di doni ma la ragazza teme che i gioielli e monete d'oro siano il prezzo per la sua vita. Si convince che la bestia non appena saranno soli la divorerà. Poi però pensa a qualcos'altro che se possibile è altrettanto terrificante. Si immagina destinata ad un'eterna prigionia in compagnia di quella bestia orribile. Per fortuna di Bella lo sappiamo bene le cose andranno diversamente. Anche per Enrico condannato a dover convivere per sempre con la propria condizione animalesca le cose sembrano prendere una strada migliore. Nel quadro dei Carracci c'è un altro particolare importante. Enrico indossa un mantello simile al Tamarco il costume nazionale degli indigeni guanci fatto con pelli d'animale. Non è un caso che Enrico si mostri vestito come un canario anche se era nato in Francia. Facendo leva sulla condizione di selvaggio vissuto a contatto con la natura Enrico gioca con la sua identità e il suo cliché finché non ottiene dal cardinale quello che vuole trasferirsi nel villaggio di Capodimonte sulle rive del lago di Bolsena. Lì i possedimenti di proprietà dei Farnese sono immersi nella natura un luogo decisamente più adatto alla sua presunta animalità. È probabile che Enrico si sia convinto che gli umini contadini e pescatori che abitano il borgo saranno più disposti ad accettare e integrare nella loro comunità un essere peloso come lui. Forse si potrà lasciare alle spalle una volta per tutte la sua condizione di fenomeno della natura. C'è una ragazza di circa 18 anni è molto bella e indossa un vestito elegante. Potrebbe essere uno dei giorni più felici della sua vita perché tra poco si sposa ma non lo è. Per prima cosa il suo promesso sposo non è l'uomo con cui ha una relazione amorosa. Quello si chiama Urbano e appartiene ad una famiglia più alto locata della sua. Oggi non sarebbe un problema ma in quel periodo il padre del ragazzo non permetterebbe il matrimonio. E poi c'è un'altra cosa ancora più inquietante il ragazzo che deve sposare ha il viso coperto di peli. Ancora una volta sembra la scena iniziale del nostro racconto ma non è così. È il 2 giugno 1602 e siamo a Capodimonte. La giovane si chiama Girolama e il padre della ragazza indipendente di basso rango dell'amministrazione non ha certo potuto rifiutare la richiesta del duca. Il motivo folclorico della bella e la bestia si ripete la giovane Girolama sposa Enrico Gonzales che all'epoca ha circa 22 anni. Dal giorno del matrimonio passano più di 3 anni ma finalmente Enrico può scrivere una lettera al duca in cui annuncia la nascita del suo primo figlio. È un maschio e il giovane Gonzales sottolinea il fatto che sia tutto peloso addirittura più di lui. Ad Enrico le cose sembrano andare bene. Si è allontanato dalla corte si è sposato e ha avuto un figlio. Ora attende con ansia un'altra concessione dai suoi protettori. Nelle lettere che scrive al cardinale al duca Enrico supplica di permettere all'anziano padre di raggiungerlo a capo di monte. Per Don Pedro e la sua famiglia questo potrebbe essere il lieto fine di un incubo cominciato tanti anni prima e che si conclude nel paesaggio incantato del lago di Bolsena. Nella prima versione della fiaba dopo che la bella si è innamorata della bestia lui si è trasformato in un bel giovane qualcosa non fila per il verso giusto. Bella non è una principessa ma la semplice figlia di un mercante e questo potrebbe impedirle di sposare il principe. Il giovane è talmente sconvolto che si dichiara disposto a riprendere le sembianze della bestia pur di non perdere l'amata. È una fiaba seppur in modo intricato le cose si sistemano e i due possono vivere felici e contenti. Un'ombra sembra invece calare sull'esistenza di Enrico a nemmeno due anni dal battesimo il figlio avuto da Girolama muore e questa cosa nessuno la può sistemare. Nel 1608 Enrico riesce finalmente a farsi raggiungere dal padre dalla madre Catrin da una sorella e da un fratello. Anche a Capodimonte e nonostante l'età Don Pedro non vuole passare per un mantenuto e lo dimostra lavorando come guardarobiere del castello. Ma nonostante Enrico sia un protetto del duca e del cardinale l'aspetto della famiglia Gonzales provoca sempre ribrezzo e i paesani sono diffidenti. Nel circondario Enrico è chiamato il peloso. Ferito dal pregiudizio sociale sembra perdere tutta la fierezza dei guerrieri guanci. Grazie alle rendite assicurategli dai farnese inizia traffici poco chiari diventando un vero e proprio usuraio e utilizzando ricatti e paura per rafforzare la sua posizione. Non sappiamo cosa Pedro Gonzales pensasse delle azioni del figlio e nemmeno quanto abbia saputo dei suoi affari. Se ne va a circa 80 anni seguito qualche anno dopo e il 1623 dalla moglie Catrin. Cinque anni dopo anche la moglie di Enrico Girolama muore. L'uomo non perde tempo e dopo soli tre mesi si risposa con una ragazza di nome Maria. Anche questo è un matrimonio combinato ma rispetto al precedente c'è una bella differenza perché la giovane è di buona famiglia. Non sappiamo se Maria amasse qualcun altro o se avesse tentato di convincere il padre un funzionario farnesiano di buon livello a non darle in sposa a quell'essere peloso e ormai quasi cinquantenne. Sappiamo però che il bambino che ha con Enrico muore poco dopo la nascita e che anche lei perde la vita dopo soli quattro anni di matrimonio. Anche la terza moglie di Enrico sposata due mesi dopo la morte di Maria è giovane e di buona famiglia. I due hanno quasi trent'anni di differenza e la ragazza è la figlia del castellano di Capodimonti. Il rango sociale del suocere è la prova di come Enrico si è ora considerato una persona importante. Purtroppo dopo nemmeno sei anni dal matrimonio anche la terza moglie di Enrico Gonzales muore e così probabilmente succede anche alla figlia che i due hanno avuto. Anche i due bambini nati dalla quarta moglie Emilia vengono a mancare. I matrimoni combinati con giovani donne e i rispettivi figli che perdono la vita in tenera età fanno sembrare l'esistenza di Enrico il tragico racconto di una maledizione e non certo il lieto fine di una fiaba che preme i buoni e punisce i cattivi. Cattivo come forse è diventato lui assorbito dai suoi piccoli commerci e prestiti e interesse che portano spesso i poveri abitanti del villaggio a dover fare i conti con le autorità. Enrico sembra essere diventato la metà oscura di suo padre quel don Pedro Gonzales che per tutta la vita ha sopportato con dignità il marchio del selvaggio cercando un riscatto prima nello studio e poi nel lavoro senza mai trasformarsi in principe però perché purtroppo questa è storia e non è una fiaba.